Circa 40 adesioni tra bambini e adulti dagli 8 ai 50 anni per un allenamento speciale. Quello ospitato domenica 15 ottobre dalla palestra del liceo scientifico sportivo Pietro Mennea di Barletta. A guidarlo Roberto Camarelle, ex pugile italiano della categoria dei pesi supermassimi, medaglia d'oro ai giochi olimpici di Pechino del 2008 e oggi direttore tecnico delle Fiamme Oro. Io quando facevo l'atleta ero il capitano della mia squadra e c'erano poche parole da dare ma tanti esempi. Quando qualcuno non ce la faceva io li spronavo e quando vincevo io facevo vedere che potevano vincere loro perché ci siamo allenati insieme, abbiamo avuto le stesse opportunità e quindi pian piano hanno iniziato a vincere le medaglie anche i miei compagni. Oggi è più un raccogliere il testimone e dare la mia passione a questi ragazzi e che loro a loro volta porteranno altri ragazzi, altro entusiasmo. Insomma deve crescere il movimento e solo con la visita dei campioni possiamo farcela. Un appuntamento organizzato dalla palestra Sports Lab di coach Antonio Lisi e patrocinato dal comune di Barletta. Approfitto per ringraziare, per chiedere sempre un maggiore sostegno da parte delle istituzioni perché altrimenti diventerebbe sempre più difficile poter far questo. Una domenica diversa, una domenica di sport, passione e di aggregazione per tutti. I punti di riferimento aiutano a superare e a vivere meglio le difficoltà nella vita. A far da sfondo all'incontro una certezza, trasmettere ai ragazzi un modo di pensare lo sport è un'azione che si fa con l'esempio. Io sono padre e effettivamente ancora c'è da parte dei genitori quella idea che questo sia uno sport violento e quindi non sempre lo accettano. In realtà questo è uno sport di disciplina. Sì, alla fine l'agonismo ha un contatto, però prima di arrivare all'agonismo ce ne passa e nel frattempo i ragazzi imparano una disciplina, fanno attività sportiva, migliorano perché riflessi, soprattutto un lavoro di testa. I genitori devono essere solo che contenti che stanno in palestra e non o sui videogiochi o fuori per strada a fare cose che non devono fare. Nello stesso giorno la palestra Sports Lab ha ospitato un Open Day dando appuntamento a un evento distante un mese sul calendario. Contemporaneamente abbiamo tenuto un Open Day nella nostra struttura in Via Foggia. Le discipline sono state il CrossFit, l'allenamento funzionale, il Bodyweight e la pesistica. Discipline che cercheremo di portare avanti anche in questa annata. Approfitto per ricordare il prossimo evento, il 19 novembre, presso l'Ipanima Club. Un evento particolarmente importante perché oltre ai vari incontri di pugilato, kickboxing, K1 e Muay Thai, ci sarà un titolo italiano professionista in palio. Puglia fa rima anche con ricordi per Cammarelle, nato a Milano e residenti ad Assisi. A fine mese tornerà nella regione per un altro importante evento. Raccontavo ai ragazzi proprio all'inizio che io venivo qui a Zapponeta al mare, quindi il posto più vicino al mare per me l'estate era a Zapponeta, quindi la Puglia. Da grande ho conosciuto anche il Salento, quindi per me è una terra meravigliosa. Anzi ricordo, visto che ci siamo, che a fine mese a Copertino ci saranno i campionati italiani JUT. Anzi ricordo, Anzi ricordo,